Centinaia di operai hanno manifestato questa mattina sulla Pozzallo Ispica per chiedere a gran voce la ripresa dei lavori dell'autostrada, viabilità bloccata. Ci sono tre ministri siciliani nel nuovo governo Lega 5 Stelle, si tratta di Giulia Bongiorno, Palermitanna, Giulia Grillo Catanese e Alfonso Bonafede di Mazzara del Vallo. Dalla Tunisia all'Italia su un balcone insieme agli immigrati per sfuggire da un mandato di arresto europeo, un francese arrestato dalla polizia tra i migranti. Il sindaco di Vittoria in audizione alla Commissione Territoriale ha illustrato i progetti di rinnovamento per la città che potrà usufruire dei fondi di agenda urbana. Gli studenti che compongono l'orchestra della scuola Giovanni XXIII di Maudica si sono esibiti nel consueto concerto di fine anno al Duomo di San Pietro. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'eclatante protesta di questa mattina sulla Pozzallo Ispica da parte di un centinaio di operai che hanno posteggiato i loro camion in strada per impugnare bandiere e striscioni e chiedere la ripresa dei lavori per la realizzazione dell'autostrada Siracusa Gela sul posto per noi Luca Bonina. Una fila quasi infinita di camion ha bloccato oggi per qualche ora la Pozzallo Ispica perché sono i camion delle ditte, delle persone, degli operai che hanno lavorato, hanno collaborato per la realizzazione di una grande incompiuta. L'autostrada Siracusa Gela oggi è una grande manifestazione, queste persone infatti vogliono dimostrare di non essere in poche ma di essere in tante e di essere anche aiutate dai sindacati e chiamano in causa anche la politica. Non è più pensabile che un'infrastruttura strategica, importante, fondamentale per questo territorio rimanga sospesa, così com'è. Le immagini sono abbastanza chiare, è un'autostrada che può, che rischia veramente di rimanere sospesa, creando un disagio al territorio, ai lavoratori e soprattutto allo sviluppo di questo sud-est. Questo è l'inizio di una lunga serie, una battaglia che vogliamo vincere la guerra. Questa non è una battaglia, è la prima battaglia per una guerra. Abbiamo chiesto al governo regionale, ai governi regionali perché nel frattempo di questa avvertenza se ne sono susseguiti due. Le pare che però le situazioni non si sbloccano, quindi il governo regionale deve a tutti i costi incentivare il processo d'accordo che c'è tra le due società in campo per portare avanti i lavori e completare l'opera. Siamo qui perché la politica intanto ha realizzato tutto questo. Da decenni si parlava di questo tratto autostradale con la Ragusa-Catania, tutte e due finanziate, questi sono partiti prima i lavori. Purtroppo per un problema poi giudiziario si sono fermati, anche se poi c'erano stati altri problemi. Noi chiediamo che la Regione intervenga, lei lo sa, io sono parlamentare di opposizione. Ho vissuto l'esperienza della maggioranza quando quest'opera è arrivata fino a qui. Tanto è stato fatto in quest'opera. Quindi ora ci auguriamo un pochino di maggiore presenza rispetto alla vicenda del governo regionale. Non possiamo che sostenere le ragioni delle tante, tantissime imprese che hanno prestato opere e servizi per l'impresa che ad oggi ancora gestisce questo cantiere e che non ha onorato i suoi impegni. Quindi siamo qui a difendere un interesse collettivo, un interesse diffuso che è l'interesse del nostro territorio. Io proprio prima di arrivare qua mi sono sentito sia con Alessia Trombini e sia con l'assessore Falcone. Credo che si vada nella direzione della recessione del contratto e quindi il passaggio alla seconda è la stessa parte e condizioni perché non si trovano, in questo momento non ci sono le condizioni per trovare un accordo fra i due partecipanti a giudicatari della gara, uno sappiamo le due ditte, una a 70 e una al 30, di passare tutta quella ditta del 30 per continuare i lavori. Quindi a questo punto penso che è meglio sbrigarsi subito, fare conteggi, vedere queste ditte e tutto quello che devono avere, pagare questi perché anche in questo modo mio di contattare le persone, di vederle, di incontrarle, anche la seconda che ho sentito proprio ieri sera, se lei e i fornitori non sono tutti saldati non ripartano perché sappiamo che questi fornitori devono essere anche fornitori della ditta della seconda appaltatrice. Quindi se questi non vanno in bonus non hanno la possibilità anche economica per poter andare avanti anche nel continuare la realizzazione dell'autostrada. Ma quelli che sicuramente più soffrono l'attuale situazione di stallo sono gli operai con alle spalle centinaia di famiglie rimaste non solo senza una strada ma anche senza un lavoro e senza soldi. Ma oltre alle istituzioni e dei sindacati i veri protagonisti di questa grande incompiuta sono i lavoratori, quelli che forse ormai si sono rassegnati, hanno perso le speranze, hanno anticipato anche di tasca propria diverse somme, adesso chiedono di continuare a vivere, di continuare a lavorare. L'esperanza, questo cerchiamo, l'esperanza che siamo rimasti senza lavoro, senza pagamenti, senza soldi. Noi chiediamo alle istituzioni che si facciano carico delle proprie responsabilità in quanto è un'opera che se non ricordo male deve essere finita nel 1973. Quindi un'opera pubblica che in Italia, cioè dilungarsi di 50 anni per realizzare 20 km di autostrada quando nel resto d'Europa e in genere per il mondo, queste opere si fanno nell'arco di 2-3 anni. Io questo non riesco a capire, il rimballarsi delle responsabilità, questo cari signori, noi siamo una nazione che sta morendo, perché? Questo chiediamo, perché il lavoro è il primo articolo della Costituzione italiana. La cosa più importante secondo me, tanto che si faccia l'infrastruttura che è un bene per tutti, cioè per tutta la provincia, per tutti, Modica, Rosolini e quant'altro. E poi naturalmente perché non abbiamo grossi lavori nella nostra provincia, questo è l'unico, è l'unico e il rischio di diventare un'incompiuta si rode un pochino. È un anno che quest'opera è ferma, da luglio dell'anno scorso. Io che vengo da 500 km per dir posti di lavoro, a questa età non cerco lavoro, ma purtroppo non si può restare un territorio così devastato, sono 30 km o 20 quelle che sono, non ce n'è un metro finito. Quindi noi cerchiamo di andare avanti, abbiamo fatto questa manifestazione per difendere il nostro posto di lavoro. O si risolve o la cosa va in malora. Andando in malora il problema rimarrà per il territorio e per un incompiuto in più in Italia che ormai è un'abitudine, non è più un'occasione. Sarà una delle tante incompiute, soldi mal spesi. E nessuno che si assume la responsabilità purtroppo di far sì che le opere messe in funzione, che quindi 100 milioni d'euro, 120 già spesi, rimangono incompiute senza utilità per la popolazione, anzi con un danno che può essere pericolosissimo, perché qua si parla di 20 km di un'opera incompleta, che quindi disagi e in caso di intemperie e di cose che purtroppo ormai sono all'ordine del giorno, qui sarà un disastro annunciato. La pagina di politica nazionale sono tre i ministri siciliani nel governo di Giuseppe Conte, nato dall'accordo tra Lega e Cinque Stelle. Nell'esecutivo gialloverde sono stati chiamati Giulia Grillo, catanese, Giulia Buongiorno, palermitana, e Alfonso Bonafede di Mazzara del Vallo. Su quest'ultimo, Ministro della Giustizia, si concentrano le speranze per la riapertura dei tribunali soppressi prevista dal contratto di governo, compresi ovviamente quelli di Modica, Nicosia e Mistretta. La Sicilia è ben rappresentata nel nuovo governo Lega Movimento Cinque Stelle, guidato dal professore Giuseppe Conte. Sono tre i titolari di Di Casteri, Giulia Grillo, Giulia Buongiorno e Alfonso Bonafede. Giulia Grillo, della Lega Catanese, è il nuovo Ministro della Salute, candidata alle regionali siciliane del 2008 e a Montecitorio nel 2013. Per quanto riguarda le politiche sanitarie, ha ambiziosi intenti, ridurre le diseguaglianze di cura e assistenza fra cittadini e lavorare per una sanità pubblica giusta, efficiente e accessibile attraverso un adeguato finanziamento. Giulia Buongiorno, della Lega Palermitana, è il Ministro della Pubblica Amministrazione, avvocato dei VIP, parlamentare da sempre schierata con il centrodestra, ma anche nota per le sue battaglie a favore delle donne, con la fondazione Doppia Difesa, cui ha dato vita con Michelle Unziker. La popolarità della Buongiorno è cominciata nel 1995, quando il principe del foro Franco Coppi le chiese di occuparsi in prima persona della difesa di Giulio Andreotti, che era accusato di collusione con la mafia e dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Alfonso Bonafede, nato a Mazzara del Vallo, del Movimento 5 Stelle, è il nuovo Ministro della Giustizia. Dal 1995 abita a Firenze, dove si è laureato in giurisprudenza e dove è rimasto collaboratore come cultore di diritto privato e dove ha conosciuto Giuseppe Conte, docente di privato nello stesso Ateneo. Su Bonafede sono poste le aspettative dei tre tribunali siciliani chiusi dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012, vale a dire quelle di Modica, Nicosia e Mistretta. Nel programma di governo, infatti, è prevista la riapertura dei 31 tribunali soppressi in Italia per tornare a quella giustizia di prossimità vicina al cittadino calpestata dalla riforma del 2012. E torniamo alla cronaca locale. I gnoti, poco dopo le 4.30 di questa mattina, hanno appiccato il fuoco allo chalet balneare Azizzi, in contrada Pezza Filippa, tra Dona Lucata e Cava Daliga. Dopo aver messo fuori uso le telecamere di videosorveglianza tagliando i fili elettrici, hanno inzuppato di benzina alcuni stracci, hanno appiccato il fuoco e sono fuggiti. Per fortuna, all'interno dello chalet dormiva il custode che, sentendo il rumore delle fiamme e la puzza di fumo, è uscito fuori ed ha prontamente spento l'incendio. I danni, dunque, sono stati contenuti. Si parla di circa 1000 euro. Le fiamme hanno provocato l'annerimento del pavimento in legno e una parete dei locali dell'infermeria. Sull'inquietante episodio indagano i carabinieri della compagnia di Modica, diretti dal capitano Francesco Ferrante. Dalla Tunisia all'Italia, non in aereo, ma su un barcone, confondendosi tra centinaia di clandestini. Si tratta della strana scelta di viaggio di un francese che ha immediatamente insospettito i poliziotti. L'uomo si è poi scoperto era un ladro scappato in Tunisia. Che ci fa un cittadino francese in mezzo a 296 migranti tunisini sbarcati a Pozzallo lo scorso 25 maggio? È la domanda che si sono posti i poliziotti davanti a Fekiramanzi, di vent'anni, realmente nato a Parigi. Perché avrebbe però scelto di imbarcarsi tra i clandestini invece di viaggiare senza alcun rischio e spendendo anche meno attraverso le normali frontiere aeree con un volo diretto per la Francia. L'uomo ribadiva di essere francese e di voler raggiungere il suo paese dove lo aspettavano i familiari. La sua insistenza era subito apparsa inusuale. Era la prima volta che accadeva che un cittadino europeo sbarcasse sul territorio nazionale mediante un viaggio via mare delle coste nordafricane. L'anomalia ha portato gli investigatori ad approfondire le indagini. Le indagini hanno portato alla verità. L'uomo è risultato destinatario di un mandato d'arresto europeo per un furto in abitazione commesso nella sua terra natale a Parigi esattamente tre anni prima. Era stato quindi arrestato e poi liberato. Solo in quel momento, per far perdere le proprie tracce, avrebbe quindi deciso di andare a vivere in Tunisia. Secondo gli inquirenti, avrebbe quindi scelto di raggiungere l'Europa via mare per eludere le frontiere aeree. Non ci sarebbero altre spiegazioni, dato che un cittadino francese avrebbe potuto prendere un volo per Parigi in totale tranquillità. Attività degli enti locali. Il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, in audizione alla Commissione Territoriale, ha spiegato come la città potrebbe cambiare radicalmente volto grazie ai fondi di agenda urbana. I fondi però devono essere spesi entro il 2020 e dunque serve una immediata progettazione. Vittoria cambierà volto grazie ai fondi di agenda urbana. Quasi 16 milioni di euro a cui si aggiungono 4 milioni e mezzo per il raddoppio del lungomare e 600 mila euro per la cittadella. In cantiere anche 4 progetti per la riqualificazione di piazza Cesare Debus, la trasformazione del vecchio matatoio in centro musicale, il restyling della villa comunale e la trasformazione della spiaggia della Lanterna Scoglitti in parco costiero. E' stato il sindaco Giovanni Moscato, in audizione alla Commissione Assetto Territoriale, a spiegare i progetti. La riunione era mirata ad approfondire proprio i progetti inclusi nella misura europea a cui partecipa il Comune di Vittoria. Le risorse economiche sono già state assegnate al territorio, ma occorrerà predisporre in fretta le progettazioni, in quanto le somme dovranno essere spese entro il 2020. Si punterà sulla digitalizzazione della macchina amministrativa, per la cui modernizzazione è previsto lo stanziamento di 1 milione e 300 mila euro. Poi ci sono i progetti che riguardano l'efficientamento energetico, gli immobili comunali e la pubblica illuminazione. Tra le idee in cantiere c'è anche il recupero della piscina Nannino-Terranova, l'acquisto degli autobus per la linea verde e l'internodo di scambi in altre zone. Ci sono poi i fondi per il rischio idrogeologico. Si interverrà lungo la costa con i pennelli a mare per contrastare il fenomeno dell'erosione. Altre azioni potranno riguardare il miglioramento dell'asilo nido, la creazione di servizi per gli stessi asili, alcuni immobili di proprietà comunale potrebbero essere trasformati in alloggi popolari o centri anziani. Moscato ha spiegato ai commissari i passi in avanti che si intendono compiere sul fronte della progettazione, che a questo punto diventa l'elemento imprescindibile per fare in modo che le somme in questione possano essere effettivamente utilizzate. I ragazzi dell'Anfas di Modica nell'ambito del progetto Legalità e Sicurezza ieri hanno fatto visita alla Guardia di Finanza di Modica. Durante l'incontro negli uffici, il comandante della tenenza Alessandro Salvatore ha illustrato ai ragazzi in modo chiaro e dettagliato i compiti e le attività delle fiamme gialle. A conclusione della visita, scambio di doni tra l'Anfas e i finanzieri. Al via domenica 3 giugno, l'undicesima passeggiata della salute a cura dell'Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici. Come ogni anno l'evento sarà particolarmente carico di significato perché riassume tutto l'impegno che l'Aiad mette giorno dopo giorno nell'affrontare una patologia importante, sia dal punto di vista sanitario che sociale come il diabete che fa registrare numeri che tendono sempre più ad aumentare. Ma si fa ancora poco per arrestare questo problema. Il raduno è previsto a Marina di Ragusa alle 9. Pagina dedicata agli studenti di Modica, in particolare quelli della Giovanni XXIII, perché l'orchestra dell'Istituto Scolastico si è esibita ieri sera al Duomo di San Pietro per il saggio finale che ha riscosso particolare successo. Sono stati 77 gli studenti dei vari corsi ad eseguire brani classici, moderni e celebri colonne sonore. Vediamo. Nel Duomo di San Pietro di Modica, ieri sera, saggio finale dell'orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII. Sono stati 77 gli elementi che si sono esibiti con la direzione del maestro Enrico Luca eseguendo brani del repertorio classico, moderno e celebri colonne sonore. Il saggio finale è arrivato a conclusione dei corsi musicali svoltisi nell'anno scolastico alla Giovanni XXIII, coordinati dal docente Elio Scapellato. Sono stati quattro gli insegnanti di strumenti impegnati, Enrico Luca, flauto, Eliseo Biazzo, violino, Massimo Martinez, chitarra e Guglielmo Sgarlata, pianoforte. La serata è stata presentata da Fatima Palazzolo. Il sindaco di Modica ha consegnato all'orchestra una targa di riconoscimento per il primo posto conseguito di recente dal gruppo musicale al concorso nazionale di Pesaro. Si disputerà domenica il quinto Memorial Raffaele Denaro, ispettore della Polizia Locale di Modica. Prematuramente scomparso, il Memorial è valido come quarta prova del decimo Grand Prix provinciale di Corsa su Strada. La competizione podistica è organizzata dall'Associazione Sportiva Il Castello Città di Modica e dal Comune di Modica attraverso il comando di Polizia Locale. Alle 9 la partenza della categoria giovanile. Il percorso si snoderà lungo il Corso Umberto dove si celebrerà nella stessa giornata la festa dello sport. E poi ancora alle 10 sarà la volta della categoria Master che partirà da Corso Principessa Maria del Belgio. In questa categoria la Polizia Locale sarà rappresentata dal commissario Enzo Di Raimondo. E si conclude domenica alla Palapadua di Ragusa il nono torneo La Primavera riservato agli Aquilotti 2007-2008. Al torneo partecipano 6 squadre oltre ai padroni di casa della Virtus Ragusa in gara il Real Basket Agrigento, il Basket Comiso 2010, il Cus Catania, la Retusa Siracusa e la SD Roma Team Up. Le squadre si affrontano in due gironi chiamati Mare e Sole. In chiusura parliamo invece della nostra programmazione perché subito dopo questa edizione del nostro telegiornale andrà in onda uno speciale dedicato al grande viaggio insieme Conad, l'evento che si è svolto nei giorni scorsi a Modica. Lo speciale con i protagonisti della manifestazione sarà replicato domani alle 14 e domenica alle 21. Stasera invece vi ricordo il consueto appuntamento con lo speciale amministrativa 2018 alle 21, ospiti candidati a sindaco di Comiso Filippo Spataro e di Ragusa, Ialacqua e Tumino. La replica domenica alle 14. E non ci sono altri aggiornamenti, noi ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione prestata e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.